e allora amici ci siamo come vedete ormai con il mare ci abbiamo preso gusto dopo l'ido delle nazioni la grande carobana il grande spettacolo fa tappa qui al lido di camaiola per i prossimi 10 minuti non toccate né benvenuti per un'estate unica la musica la musica su radio bruno la musica la musica su radio bruno buonasera buonasera benvenuti in uno degli spettacoli forse più belli del mondo perché sono degli spettacoli belli perché ci siete voi guardate i quanti siete proviamo con il primo urlo 1 2 3 vai sul palco di lido di camaiore arriva alessia ventura radio bruno estate buonasera lido di camaiore buonasera benvenuti a radio bruno estate lido di camaiore buonasera benvenuti in uno degli spettacoli lido di camaiore buonasera benvenuti in uno degli spettacoli lido di camaiore buonasera benvenuti in uno degli spettacoli lido di camaiore buonasera benvenuti in uno degli spettacoli lido di camaiore buonasera benvenuti in uno degli spettacoli lido di camaiore buonasera benvenuti in uno degli spettacoli lido di camaiore buonasera benvenuti in uno degli spettacoli Tra i sogni più veri è questa canzone Che gira e mi gira la dedico a te Il mio unico amore Lascia che amere il vestito e la sera Lascia che arrivi la tua primavera Il tuo respiro mi calma Prendi tutto, prendi anche il buio di me Non avrei dovuto sapere Mentendo non ti avrei di vista più Avrei dovuto sapere Che non mi avresti dato un giorno in più Senza chiedermi perché E contraddirti Vorrei riuscire a innamorarti ancora Se solo non amarsi ancora a te E' un gioco di parole in una storia Che non è mai finita dentro me E' un gioco di parole in una storia Quando è in fondo ad una storia nessuno sa come andrà Tu mi spiazzi e ogni volta che mi guardi Mi parli persa nei tuoi traguardi Lo voglio fare davvero basta un attimo Lo voglio fare davvero se so che ti ho Non c'è situazione che spaventa Solo con te quella voglia che ritorna Solo con te Ogni giorno ti trovo nel mio mondo Beh, allora, che ne pensate? Bello, no? Solo le immagini possono rendere giustizia al Radio Brunestate Ogni qualvolta la radio arriva nella vostra città Questo è quello che succede L'estate è lunga e tanti sono gli appuntamenti ancora che mancano al finale Quindi adesso siamo stati all'Ido di Camaiore come avete visto Tempo di impacchettare tutto Il Radio Brunestate sarà pronto a arrivare No, Mario, sono entro Ci vediamo ammirandola Il 18 Ciao No, Mario Oh, l'avete chiuso? Ho hanno spento io a porta Non c'è che per rispondere la luce tutt'altro Grazie a tutti Grazie.